Ah, non so voi due, ma io sono sazio! Piccolo come sei ci vuole poco a saziarti. Se amateci, Pechop, saziatevi con il prossimo cartone! E ora... il pomeriggio! Ehi, porterò il regalo di compleanno alle officine meccaniche. Pictor mi aiuterà, i soffi d'aria calda asciugheranno il pacco in un baleno.